Hanno parlato per la prima volta in aula Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due 29 anni di Castiglion Fibocchi imputati al processo d'appello a Firenze per la morte di Martina Rossi, la ventenne genovese precipitata dal balcone di un hotel di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. Nel corso dell'ultima udienza i due giovani hanno infatti rilasciato dichiarazioni spontanee per ribadire la loro innocenza. Secondo l'accusa Martina sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. In primo grado Luca ed Alessandro erano stati condannati dal tribunale di Arezzo a sei anni per tentata violenza sessuale e per aver causato morte in conseguenza di altro delitto, quest'ultimo reato dichiarato prescritto lo scorso novembre, non senza polemiche. Ieri, di fronte ai giudici della Corte d'Appello di Firenze, è stato il turno delle ringhe dei difensori dei due imputati che hanno chiesto la soluzione e la riapertura dell'istruttoria. I due giovani hanno poi reso dichiarazioni spontanee. Albertoni ha così sostenuto che la studentessa si sarebbe gettata dal balcone perché è stato confusionale dovuto all'assunzione di droga. Avevamo fumato una canna e Martina non sapeva dove si trovasse né cosa stesse facendo, ha detto Albertoni, precisando poi come nel momento della tragedia fosse andato a chiamare le amiche della ragazza perché preoccupato per le condizioni di salute di Martina. Pure Vanneschi ha rilasciato brevi dichiarazioni spontanee davanti alla Corte ribadendo la sua innocenza. Amarezza e rabbia invece da parte dei genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, sempre presenti in aula. Io credo che, come dire, a volte la gente si dichiari da sola, però voglio cercare di confidare nella giustizia perché capiscano tutti. Il processo adesso proseguirà l'11 marzo, data in cui potrebbe arrivare anche la decisione dei giudici. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna a tre anni per ciascuno degli imputati per il reato di tentata violenza sessuale di gruppo.